In questo video vediamo che tipo di azzurro otteniamo mischiando il blu cobalto, il nero di Marte, il bianco di Titanio e un altro ospite che non vi svelo. Questo video è un poco un prolungamento del video che abbiamo fatto la scorsa volta sui neri e visto che ne abbiamo parlato andiamo subito a sperimentare un nero. Una delle volte scorse abbiamo visto come fare dei verdi con il nero Adesso vediamo come si comporta il nero quando deve costruire del colore azzurro. Quindi sperimentare sul colore. Un piccolo video, un piccolo suggerimento e non mi resta altro che augurarvi una buona visione non prima di avervi chiesto di iscrivervi al canale di mettere un mi piace, di condividere il video e di commentare sotto la descrizione. Allora, buona visione e a presto! Blu cobalto e bianco di Titanio Adesso metterò questi due colori sulla tela perché sono la base per la costruzione dei colori che noi andremo a fare oggi. Spero di non tediarvi con il racconto quasi telecronaca di quello che sta succedendo ma vorrei che questa esperienza di questo video sia quasi una riflessione sul colore e quindi le mie parole potrebbero anche essere assolutamente superflue ma ci tengo a dovervi accompagnare e darvi un attimino qualche spiegazione su quello su quello che sta succedendo come vedete adesso sto costruendo un rettangolo usando solo il blu cobalto e il bianco di Titanio quindi è un azzurro abbastanza freddo se viene mischiato in queste in queste in queste gradazioni in questa tonalità con questa con questo dosaggio di colore e questo questo colore sarà il punto diciamo il punto di partenza per l'indagine che facciamo oggi è sulla possibile coesistenza fra questi tre colori il bianco di Titanio il blu cobalto e il nero di Marte vediamo poi come il nero di Marte andrà a influire su questo colore questo qua quindi è quello che io lascerò assolutamente intatto dall'inizio alla fine come come punto di partenza come pietra su cui iniziare il nostro il nostro lavoro e ovviamente questo video è un suggerimento un suggerimento a provare e a sperimentare adesso sono partito dal blu blu prima sono partito dal bianco e costruisco un altro rettangolo che deve essere più o meno uguale al rettangolo di sinistra al colore del rettangolo di sinistra per poi vedere di intervenire sopra con con il nero di Marte quindi andiamo a vedere come si comporta il nero di Marte sopra la tonalità azzurra quindi sopra questa miscela di bianco di titanio e blu cobalto l'unica accortezza è quella di mischiare bene il colore in modo che sia omogeneo in tutte le sue parti adesso vado ad aggiungere il nero di Marte di Marte sopra questa questo tappeto questo questa miscela che abbiamo fatto di bianco di titanio e blu cobalto e quindi il colore assume questa tonalità una tonalità profonda che adesso prendo e riporto vicino riporto vicino la stessa tonalità che ho fatto però questa volta la schiarisco di tono quindi ottengo tre tonalità di azzurro la prima una miscela di bianco di titanio e blu cobalto pura la seconda con l'aggiunta di nero di Marte e la terza preso questa miscela di nero di Marte blu cobalto e bianco di titanio e l'ho ulteriormente schiarita quindi ho ottenuto questi tre blu che possono essere molto interessanti se usati nei paesaggi nell'ora nell'ora tarda nell'ora della sera sono degli azzurri che io che io amo molto che mi che mi piacciono e mi piacciono moltissimo e dove come vedete la giunta del del nero di Marte da quella profondità e da quella naturalezza a mio avviso che che non è da sottovalutare ecco perché dicevo nel video precedente che il nero è un colore importante non è un colore che deve essere usato solo per i contorni è un coloro che va accolto la sperimentato su altre tonalità e può dare delle risposte molto interessante come nel caso della costruzione di questi di questi azzurri adesso io prendo la tonalità che ho lasciato sulla destra naturalità dove è presente sono presenti tutti e tre i colori che sono bianco di titanio li ripeto sempre blu covalto e nero di Marte però vedremo con l'aggiunta di un quarto protagonista che è che interviene per diciamo scaldare il colore per dargli quella quella tonalità calda che che può essere molto utile e interessante l'importante notare e annotare che tutti i colori tutti i colori che abbiamo che noi creiamo ovviamente esistono in quanto sono vicino ad altri colori perché la vicinanza ad altri colori cambia la tinta che stiamo dando per cui è fondamentale pensare questi colori e riflettere sulla sua composizione però quando noi li mettiamo sopra vicino a un elemento magari più scuro oppure addirittura di un altro colore possono cambiare una tinta la tinta per esempio questo colore qua che che sembra scuro ecco ecco mi sono distratto un attimo e mi sono perso il momento in cui arriva questo nostro quarto invitato che è la locra gialla ecco dando locra gialla sopra questo colore noi otteniamo una bella tinta di azzurro profondo e caldo dicevo quando per esempio noi ecco come nel caso di questa tinta qui se noi se io questa tinta qui la metto sopra un mare abbastanza scuro in luogo dell'orizzonte e sopra di essa metto una nube con una tonalità soprattutto sulla parte inferiore abbastanza scura questo questa tinta che ora mi appare così scura improvvisamente mi apparirà molto molto più chiara quindi è fondamentale avere esperienza del colore io io vi consiglio veramente di fare una pratica sulla creazione delle tinte senza dover per forza costruire qualche cosa ma proprio come esperienza di di trasformazione della tonalità ecco fra poco fermerò questo fotogramma per farvi vedere come il blu cobalto messo sopra una superficie dove è stato trattata anche con ocra gialla guardate come risulta molto più brillante e questa l'esperienza del colore quindi quando vi trovate in in queste situazioni in cui scoprite qualche cosa annotatelo annotate proprio i passaggi anche su un foglio di carta semplicemente dicendo ho messo della del bianco di titanio del come in questo caso nero di marte e blu cobalto molto chiari però con la presenza dell'ocra gialla quando ho rimesso il blu cobalto sopra questo mi ha apparso più brillante ecco questa sono cose che che interessante a notare perché perché sono importanti sono importanti soprattutto quando c'è per avere la possibilità di conoscere maggiormente di essere in grado di poter poi utilizzare il nostro colore quando ne abbiamo bisogno sappiamo che questo che questa esperienza che abbiamo fatto possiamo recuperarla e quindi possiamo presentarla nel dipinto che in quel momento li stiamo facendo adesso dovrei fare questa tonalità però un un poco più chiara quindi come vedete ricostruisco sempre la tonalità di prima e vediamo come posso che poche che colore che tinta che tonalità mi da questo stesso colore però con naturalità più chiara vedete i due azzurri scuri che nel video praticamente sembrano quasi simili per vi assicuro che quello di sotto è molto più più saturo molto meno freddo nella realtà quindi ricostruisco ricostruisco il colore come come ho fatto nel rettangolo di sinistra e poi ovviamente userò il bianco per poi schiarirlo definitivamente il nero subito da questa anche se dentro c'è del blu però messo in queste condizioni in questa situazione da subito una tonalità in realtà più calda e che poi viene scaldata ancora maggiormente dal dal ocra gialla che noi che io vado a mettere a mettere sopra poi adesso ne metto un poco qui perché poi invece farò l'operazione inversa scurirò questa questa tonalità quindi otteneremo una un azzurro ottenuto con con l'aggiunta dell'ocra gialla più chiaro e un azzurro è ottenuto con l'ocra gialla più scuro questo è un video è un esempio ogni esempio di ciò che noi possiamo fare perché le tinte sono veramente talmente tante e le possibilità di di combinazione sono talmente ampie che che è un piacere straordinario poter scoprire ogni volta e stupirci anche il risultato non solo di della costruzione come detto prima di due di una tinta ma proprio anche vedere come reagiscono poi insieme queste tinte una accanto all'altra perché ovviamente questo sarà un cielo però se noi questo cielo ad esempio lo affianchiamo ad un verde più o meno costruito allo stesso modo e cioè con l'aggiunta del nero come abbiamo visto in un video precedente vi metto il link qui sopra otterremo proprio quel colori quelle tonalità notturne che sono che sono interessanti e che ci possono venire utili quando dobbiamo affrontare una un soggetto di 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 quel tipo adesso ho caricato il nero e adesso intervengo con con il blu poi ho posto la a fianco al al colore sulla sinistra quella striscia più chiara per per far vedere proprio il cambiamento di tono spero che questo piccolo video sia stato utile e vi abbia interessato e vi invito veramente a fare a fare questo anche voi a sperimentare sempre e comunque vi ringrazio moltissimo della vostra visualizzazione vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere mi piace di condividere il video e di commentare sotto la descrizione un ultimo passaggio quello di schiarire il tono del colore scuro dell'azzurro scuro profondo che abbiamo ottenuto così abbiamo questa gamma di azzurri freddi che abbiamo ottenuto con l'unione di nero di marte blu cobalto bianco di titanio e ocra gialla vi auguro una buona giornata e arrivederci a presto